Benvenuti pagliacci di merda, io sono Rex e oggi è entrato in Roma con una competizione che dimostrerà che è più forte tra di voi, vi sfiderete una sorta di campionato, affronterete diversi generi di gioco tra cui picchiaduro, fps, giochi di corse eccetera 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 ma che cazzo, ma porco di cazzo non ho scritto, non volevo dirlo, dovrete rispettare un programma mensile dove ogni giorno in fasce diverse ci saranno dei giochi in cui dovrete affrontarvi e solo i primi 4 di ogni torneo riceveranno punti e gli altri si attaccheranno al cazzo Ogni giocatore può scegliere solo 3 giochi a settimana dove poter competere, i tornei verranno affrontati solo se c'è un minimo di 3 giocatori, potrete trovare regolamente il programma su gruppo whatsapp che vi ritroverete sul share, buon divertimento e che l'ultimo dei pagliacci del rinca di riso e umiliato ahahahahahahaha